Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Alexander e oggi siamo in questo nuovissimo video nelle Bedwars Allora, questa qui è una challenge nelle Bedwars Cioè, consiste che io, praticamente, non posso utilizzare la spada ma utilizzo solo lo stick Allora, le regole funzionano che ho inventato io Funziona, oddio, aiuto veramente, per favore I lampi no, comunque sto dicendo Funziona che io devo prendere Cioè, posso prendersi a piccone e ascia Solamente per spaccare, perché se no i letti protetti, avete capito, no? Però non posso utilizzarlo contro la gente E quindi, niente, le regole messe in chiaro Posso utilizzare solamente lo stick con il knockback 1 Però, oh, regà, lo stick è forte Devo dire la verità, non è scasso lo stick Quindi, andiamo su, perché mi ha messo questa skin C'è una cosa Ok, perfetto Vai, andiamo 4, 3, 2, aiuto No, regà, perché sto laggando? Non sto laggando quello Effettivamente se il gioco non mi lagga a me Eh, lagga loro Allora, iniziamo subito a levare questa spada Peccato Era, era, era Era una bella spada Era Era Ricordiamoci, regà, il verbo essere No, ok, no No, quello lì è verbo No, sì No, cioè, il verbo avere Madonna Il mio cervello sta andando lì Solamente per ricordarmi che mi devo prendere questo coso in mano Questo Questo coso Vabbè, lasciamo fatti scherzi, regà Comunque Direi di prendermi dei blocchi No, infatti il verbo essere e il verbo avere Che intanto è quello lì, il verbo avere Ma va bene Comunque No, aspetta Oppure il verbo Chi lo sa No, scherzo ovviamente Però, ecco Vedete perché mi devo mettere a parlare di verbo essere e il verbo avere Che succede questo? Che Godbrage mi se ne va all'improvviso Ecco perché Per me dovrò fare l'insegnante nei video Sto proprio No, fatti scherzi Direi di Andare A pushare Quello lì Cioè, quello lì che è andato appena a prendere Nell'isola di diamanti Cosa che mi serve a me Mannaglia A quello Allora Oggi No, 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 no Meglio farlo avanti va No, no, no Però no Che mi raghi, no No, che il miracchio non esiste proprio Sì, col cavolo che vado avanti Che mi si scompaiono i blocchi Sotto i piedi Sì, sì Io ci vado proprio Davanti, sì No, 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 regà, no No, ma Va bene Non fa niente Tanto 5 5 di Di cosa ci sa Ah, 5 spade Ok, se no No, è niente No, regà Non posso utilizzare la spada Non posso utilizzare la spada Fortuna che sì Questo c'è un po' scemi Ok, scherziamo Non sono Non sono Non sei scemi E niente Può capitare Può capitare, regà Mi scuso se il video sta dando un po' male Dovrei impegnare un po' di più Ma Io sono pigro Si sa No, che non mi impegno Per queste partite Però non fa niente Allora, fate scherzi Passiamo alla seconda partita Secondo game del giorno, regà Eh, dipende Perché questo primo game è andato veloce Come sempre ci sono tre game Però dipende Sempre dipendere Se per esempio il secondo game non va Cioè, regà Per esempio, no Se per esempio i game sono troppo veloci Nel senso, no, dai Ma perché la gente sta laggando? Oddio, mi sta laggando il gioco Non credo se neanche per linea Ma intanto le vediamoci questo Nel inventario La spada proprio non la devo proprio vedere Devo soltanto vedere lo stick E niente spada Quindi rip è spada Allora Quattro Si può capire Si può sapere perché Sarà tutto tipo così Al ralentatore Cioè, non dico al ralentatore Quando spacca i blocchi Tipo L'audio dei blocchi Vabbè Lasciamo perdere, va Allora Direi di prendermi Il bellissimo E famosissimo Stick Quello qui No, becco uno Allora No, no Oddio, pensavo che era uno No, è impossibile infatti No, perché sapete cos'è? È che io sono abituato A race Forse che subito la gente arriva Invece qui è un po' più diverso Ci mettiamo Sì Ok, sì Sono per sempre molto veloci Però Un leggero un po' più Cioè Un leggero meno veloci Sì Oddio Troppo abituato A race Vostra raga Purtroppo Aiuto No, no Ma cos'è? No, no Alla spada in ferro Raga È impossibile Cioè È impossibile Alla spada in ferro Questo Ma è spada in ferro Ma cos'era? No, no, no No Raga In po' di che mi rifiuto di giocare Scusami Come si è fatto a farsi a spada in ferro In così poco tempo? Cioè Spada in ferro con Vabbè Io in più con sharpness pure Te lo scordi Ah 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 Sto anche laggando No, in teoria non dovrebbe essere lag No, ma non sto laggando io Sto laggando quello E quindi Nel senso Io non posso farci niente Sto laggando Però va bene Andiamo a questa parte Prendiamoci questo Perfetto Eh Direi di Andare a questa parte Ma poi c'era quello lì Raga per fortuna Che non mi ha spaccato il letto Mamma Che fortuna che ho avuto Allora Andiamo di subito In base No, 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 no No, no, no Eccolo Lo sapevo Io lo sapevo Guarda com'è No, dai regà Non altro spammone no Che drag click no però Uno di voi mi ha consigliato Fra Passare a Java Che è molto meglio Perché come quello lì Nel scorso video Perché l'aveste visto Non ha senso E infatti ha ragione Però Nel senso Cioè Non posso farci niente Perché non posso passare a Java Purtroppo Più velocemente possibile Ma soprattutto Non posso passarci Perché il mio PC Non lo regge Non regge proprio Eh niente Vabbè non fa niente Vabbè non fa niente Ultimo game del giorno Dai non fa niente Mi dispiace Questo video È venuto un po' Deludente Però Mi sto divertendo A farse partite Parlare Per delle robe No Vabbè Ma dove mi ha consigliato Questo Io per ora Non posso passare a Java Perché il mio PC Non lo regge Quindi raga Per ora Non posso farci niente E aspettiamo Che devo dire Io proverei Di aspettare Allora Dai Altri due Quattro Uno 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 Ne manca Uno Uno Ok Ci vuole tanto Ci vuole tantissimo Mamma Dai No Scusami Mi hai fatto cadere Vabbè guarda Io non me lo spiego Guarda Io manco me lo voglio spiegare Vabbè Andiamo Da questa parte Sì sto da questa parte Questo Andiamo subito da quello Il danno solamente grey È È andato Allora No 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 Ma dai Ma dai Ma con No raga No No Con che legge fisica No Come hanno fatto Le sconette Me ne cuffia Vabbè Non fa niente Può capitare Spero che mi senti Anche meglio di prima Vabbè Comunque Ci siamo presi Famosissimo Stick Ora Prendiamoci Subito Questo Ok Allora Quello lì Non c'è Allora Andiamo Nelle solite Diamanti Già so che Potrei andare Anche in quella Però Non ne ho voglia Quindi Pazienza Allora Oh Si sono riuscito Per una volta Vai Godbrage No 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 Non ci sono riuscito A fare Quell'altro Vabbè Allora Direi di andare Vabbè Lì Già ho visto Non c'è nessuno Ovviamente Dove capire Ammigerei Proprio vicino a me Poi Il blu Cioè il rosso Sta andando Dal blu Il blu Non si è capito Che sto facendo Io vado Io vado Dal rosso Cioè nel senso Non ci penso Due volte E ci vado Basta che Godbrage Me lo fa bene Ok Sì Per una volta Ok Perfetto 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 Andiamo Qui sopra Oddio Una friccia No 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 Blu Calmo Ma Ho lo stick Che bel ridere Proprio bellissimo No Mi ha preso No 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 Non c'è Io come ho detto Sono troppo abituato A retras No Regà Troppo Pisto stick Cioè guardate Quanto lo spingo Eh Quando lo spingevo Rip Vedete Regà Perché io Devo Per forza Venermi piccone Ma per chi mi è rimasto acceso io Vabbè guarda Non è che gli faccio domande Ora facciamo una cosa Sì Scusami No io non c'ho Io Io veramente Regà Io non Io non Io non ho parole No 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 dai Non ho parole Io rispondo Mi trovo uno in base E risposto anche peggio Perché a me Il preciso prendere Mi spaccano il corso Beh Perciò Regà Non fa niente Può capitare Vabbè Fatti scherzi Regà Io direi Di Oddio Che è successo Eh Ok Torniamo nella lobby Ok Oddio Che rumore Vabbè Regà Io direi Di staccare questo video Spero che vi sia piaciuto No Perché questa No Regà Perché questa skin Ok Ah Guarda Regà Io spero che vi sia piaciuto questo video Lasciatemi un mi piace Iscriviti al canale È tutto È nulla De regà Ma ci vediamo qui Domani Con un prossimo video No domani Non so se faccio video Però si vedrà Vabbè De regà Io direi di andare Ciao Ciao